Buongiorno Bene a tutti siamo tornati Nuovo video su youtube Allora oggi giornata Tipica giornata di allenamento Però siamo tutto il team Completo, ci sarà Orge E anche Tony che torna a girare con noi Cioè Tommy fa i video e le foto Quindi avrò un supporto Tecnico, vorrò vedere un po' La giornata di allenamento E niente, ciao 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 Piego Lui Inquadrati Lui è Tommaso È venuto qui perché abbiamo collaborato Per la realizzazione E ha fatto anche le foto in analogico con i rullini con una macchinetta del 1995 Quindi ha ben 87 anni Abbiamo scattato oggi in moto Oggi pomeriggio lo porto in stazione Che torna a casa E va a far sviluppare i rollini E siccome ci metterà qualche giorno Ma questo video è stato registrato qualche giorno fa Godetevi questi scatti Inusuali Perché scattare in analogico Non lo fa nessuno Nel motocross E quindi a noi piacciono fare le cose diverse Da tutti Le cose originali Quindi beccatevi questi scatti Ciao a tutti Scusate mi sono completamente dimenticato di filmare E nel frattempo siamo andati a casa a mangiare Ho portato Tommaso in stazione Ho fatto la doccia E adesso sto andando Da MyCover Mi ha stampato E mi aiuterà a mettere gli adesivi Per il furgone Che ho fatto per gli sponsor E mi aiuterà a mettere gli adesivi E mi aiuterà a mettere gli adesivi Bene come avete visto Il lavoro è venuto da Dio Meglio addirittura di come mi aspettavo Adesso siamo qui Al capannone Lavo gli stivali La roba da moto Sistemo Che domani è un altro giorno di allenamento Ciao 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 Ti racconti Abbiamo appena finito di lavorare la moto Dai Diciamo che è stata una bella giornatina, dai. Ecco, perfetto, va, posto. Bene, allora, finito di sistemare tutto, ora sono tornato a casa. Devo montare il video che è uscito giovedì scorso, perché oggi è mercoledì e devo ancora fare tutto. Ho qualche ora per montare tutto un video. Io qui continuo a lavorare. Tanto ce ne ho ancora un po'. Spero che, appunto, almeno ne abbia valsa la pena e che vi sia piaciuto il video della settimana scorsa. E soprattutto anche che vi sia piaciuto questo video qui, visto che finalmente eravamo tutti e tre in pista insieme, tema completo. Spero di portare altri contenuti così. Lasciate assolutamente un like e iscrivetevi al canale. E state collegati, perché presto ci saranno molte nuove novità. Comunque scrivetemi qui nei commenti qualche idea per i prossimi video. Sto già lavorando a molte cose che presto scoprirete. Ciao! Ciao! Grazie a tutti.